Prima iniziativa ambientale dell'anno per l'associazione Plastic Free Onlus. Domenica mattina volontari all'opera per la spiaggia di Via Lido, che sarà ripulita. Grazie al luogo scelto, molto grande, i volontari potranno agire sparpagliati in solitaria oppure in coppia tra congiunti. Hanno aderito anche l'Unitas Sciacca, l'Excellencia Dance Studio, Sciacca Full Immersion, il gruppo Scout Gesci Sciacca 1 e Marevivo. Per partecipare basta prenotarsi tramite un apposito link. Ne abbiamo parlato per tutti i dettagli con Domenico Vernagallo, referente locale di Plastic Free Onlus. Sono referente per la città di Sciacca dell'associazione Plastic Free Onlus, che riunisce circa 150.000 volontari con oltre 60 appuntamenti a settimana e fino adesso circa un milione e mezzo di chili di plastica e rifiuti rimossi all'ambiente. La plastica causa l'inquinamento della terra, dei mari ed è qualcosa che oramai coinvolge tutti. E la cosa meravigliosa è che tutti possono aderire ai nostri eventi. A ottobre 2021 a Sciacca abbiamo effettuato il nostro primo evento Plastic Free, a Rocca Regina, una raccolta con più di 500 chili di rifiuti indifferenziati in una zona che potrebbe essere simbolo di Sciacca e che con tanti volontari abbiamo pulito. Nel 2022 faremo di più e ancora meglio per il bene di Sciacca e del pianeta. Per il primo evento di quest'anno abbiamo scelto un altro luogo simbolo, la spiaggia del Lido Salus, dove una volta, mi ricordo, passeggiando si trovava il corallo e tante conchiglie. Adesso invece le mareggiate hanno ricoperto la spiaggia e i rifiuti, di cui la maggior parte è di plastica. Questa domenica 9 gennaio alle ore 10 ci prenderemo cura di Sciacca. All'evento hanno risposto e aderito diverse associazioni subito con entusiasmo. Saranno con noi a collaborare e far capire che insieme si può fare tanto. Saremo con Marevivo, il gruppo scout Sciacca 1, l'associazione L'Excelenzia, Sciacca Full Immersion, la squadra dello Sciacca Calcio e una delegazione del comitato Zonalido e tanti altri volontari. Chiunque può partecipare e per partecipare sarà necessario registrarsi tramite il link che si trova sul sito web Pressifree Eventi Provincia di Agrigento. Un grazie al comune di Sciacca, all'assessore Bacchi e allo sponsor locale che ha fatto una donazione direttamente alla Onlus Pressifree per l'evento di domenica, Hotel Villa Calandrino. Il luogo scelto e la sua grandezza ci permetterà di effettuare la raccolta individualmente senza contatti o assembramenti e sarà necessario quindi effettuare la raccolta con mascherina. Ci vediamo domenica mattina, appuntamento alla fine del borgo dello Stazzona, inizio spiaggia Lido, in via Lido e Sperando. Noi ci siamo e lo faremo vedere domenica con le nostre azioni. Grazie a tutti.